Secondo bus in fiamme nel giro di pochi giorni a Torino, è accaduto questa mattina ad un pullman della linea 71 nell'ora di punta nei pressi di Corso Tassoni. L'autista appena visto il fumo ha fatto scena tutti i passeggeri, in mezzo ha visto l'ora affollatissimo, gli viene intossicato l'autista. Grazie per la visione!